Splendida medaglia d'oro all'Italia nei 200 metri piani ad opera di Berruti. Lo scattista azzurro ha compiuto il miracolo, ha realizzato un'impresa ritenuta impossibile. 20 secondi e 5 decimi. Il record mondiale raggiunto, superato il limite europeo e nazionale nel breve battito di pochi sussurdi. Il nostro atleta ha guadagnato su Johnson che gli è accanto. Supera Norton, esce in rettilineo nettamente primo. I due negri americani non possono nulla. Berruti è al traguardo mentre lo stadio esplode come un vulcano. Vincendo nel tempo di 25 Berruti è entrato decisamente nel quadro dei più grandi atleti del mondo. Gli avversari sono rimasti amichilini. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi l'Italia ha guadagnato una medaglia d'oro nelle gare di velocità. La bandiera tricolore è sul pennone più alto. È un trionfo senza paragoni.